ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video voglio fare questo video no perché lo faccio questo è un video motivazionale per me per me perché non so se vi ricordate ma l'altro giorno è successa questa cosa cioè quindi sto a casa con i cagnolini però sto a casa e quando stai a casa il tempo vola quindi in realtà questi quattro giorni passeranno super in fretta dopo sarebbe se io ritorno e c'è la casa tutta in ordine pulita cioè sembra proprio un sogno o stai a dire davanti a tutti perché mi stai mettendo difficoltà poi tu puoi anche tagliarlo questo spiano di roba potrei tagliarlo e tutto pulito tutto a posto cioè difficoltà come faccio a leva il caos da sta casa che non ci sta più spazio per mettere roba ebbene sì luca mi fa da bubina sarebbe bello se hai visto metti casa tutta in ordine allora la verità è che effettivamente casa nostra è un caos totale perché ci sono cose cose che non dovrebbero stare dove sono cose troppe cose caos totale totale un sacco di roba che in realtà non uso non serve sono un po un'accumulatrice seriale credo cioè avete presente sepolti in casa quello che fanno su real time ecco io so così cioè non so così nel senso che ancora si cammina ma siamo sulla strada c'è un problema con le cose cioè nel senso mi dispiace liberarmi delle cose buttare le cose però mi rendo conto che c'ho tante cose che ma che ce lo fa ok quindi ho troppe cose e questo lo sappiamo tutti lo abbiamo detto più volte casa nostra è molto piccola quindi di conseguenza troppe cose in uno spazio molto piccolo fanno sì che c'è il caos ma poi il caos è dovuto pure dalle piccole cose no da da quello appoggiato lì che non ci dovrebbe stare guardate qua dietro no perché perché ok ok siamo d'accordo ok non sono una persona ordinata e manco ho mai detto di essere una persona ordinata e non faccio manco finta allora la questione è questa luca mi fa mi lancia questo sasso e ora visto che io sto a casa sostanzialmente in questi giorni soprattutto oggi cioè oggi proprio sto a casa e domani pure quindi non ho scuse cioè nel senso potrei stare tutto il giorno sul divano sì ci sono già stata abbastanza ieri anche se anche se c'è da dire che ieri non sono stata proprio con le mani in mano nel senso che mi sono messa a sistemare delle cose della sala mentre guarda oltre film ho messo a posto delle cose della sala ho spolverato le mensole ho spolverato le mensole ok questo è comunque un grosso passo per chiara e per l'umanità allora ora io direi che potremmo passare alla cucina perché ieri sera presa da quest'impeto di oh metto a posto ho fatto questo ok ho tirato giù da qui tutto quello che c'era tutti i tupperware che però gli manca il tap aware gli manca il tap ok quindi ho fatto sto casino ma io devo risolvere sto casino se non posso cucinare tra l'altro siamo arrivati a una situazione dove se apro qua mi cascarò ban faccia credo che ci siano troppe cose ok quindi adesso io svuoterò tutto capirò quali tappo c'hanno i wear e poi mi libero di quelli che non c'hanno i wear quindi è inutile tenere cose smischiate dove vanno a finire i tupperware sono come i calzini i tupperware quelli senza tappo vabbè non lo so comunque mi libero delle cose che non sono sono vecchie perché tanti sono vecchi consumati la plastica dentro si rovina quindi perché ne tengo centomila che poi non uso perché sono rovinati quindi adesso farò una selezione di tutte queste cose anche delle padelle delle pentele terrò quelle che veramente servono e le altre via ciao passate a miglior vita non potete stare in questa casa non c'è posto per voi va bene quindi questo video lo sto facendo perché così almeno faccio un video e mi motivo perché se non so da sola quando sono da sola ma no io invece così mi motivo siete la mia motivazione perciò adesso continuo a sistemare sto casino che ho cominciato ieri poi vi faccio vedere come è alla fine perché poi non c'è solo quello da sistemare ci sono anche i mobili del cibo il frigorifero lì sotto su quel mobile lì tutto lì sopra vorrei veramente che quando luca torna almeno un pezzo di casa lo trovo in ordine ora non posso giurare che metterò in ordine tutta casa ma almeno un pezzetto già il mobile della tv è meglio di ieri quindi vabbè io comincio ci vediamo tra un po io non capisco che questi sono avanzati dov'è il sotto o il sopra non lo so non lo so vabbè niente mo li parcheggio da una parte se non trovano compagno li butto cioè capito che ce fai coi tappi di una cosa che in se chiude non servono a niente i tappi senza il sotto ma non ci stanno tra l'altro non che mi servano perché questi sono solo quelli che ho trovato qualcuno è di francesca me sa comunque questi sono quelli che ho trovato cioè bastano questa casa che ce devo mettere dentro che 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 ce devo conserva niente che ce faccio già sono troppi così quindi qui mo ci ho messo le ciotole che prima stavano qua ma mi cascavano sempre in testa a parte questa di vetro che riga è troppo grossa non ce l'hanno a location non me la posso buttare perché quando faccio l'insalata di ricco comoda padelle macchiate si me l'avete detto come se fa smacchiali ma non esageriamo per oggi pentole non ho buttato ventole perché comunque non c'è ce n'ho il giusto quei vassoi sono orrendi non mi servono li uso una volta all'anno però quella volta all'anno che uso se poi butto non ce l'ho quindi poi mi servono dei vassoi perciò non c'ha senso qui sono messi degli e dei silicone mi è avanzata della roba che non so dove mette sinceramente però mo ce studiamo trovo un altro tappo devo stare sotto di questo che fine ha fatto l'è nato non lo so vabbè dopo questo mo me sa colavo metto in frigo così tiene in ordine la roba del frigo poi questo coso è gigante l'avevo preso per fare la sangria tanto questa è in porta torta come se io facessi le torte ma va bene questo avevo preso per fare la sangria mo però non c'entra da nessuna parte cioè stava un piccato là dietro io devo trovare un posto non lo so dove metto forse entra al forno che dentro al forno ci sono altre cose però tipo frullatori cose che non servono nel frattempo ho messo pure a fare una lavatrice mamma mia quanto so brava cioè qui ho levato un sacco di roba qui dentro un sacco di roba ma penso pure a qua sopra ma questa è da mettere in ordine è passata un'ora e posso ufficialmente dire chi mi ha fatto fa io non so chi mi ha fatto fa perché ho cominciato perché poi se cominci non te puoi ferma finché non finisci perché mo che faccio lascio così no definì quindi perché ho cominciato io stavo sul divano stavo la tanto bene straiata tutto il giorno riposamme no ho cominciato a fare questa cosa perché quello nel video ha dovuto fa ho splendido tu metti a posto mentre in cesto questo non entra è capito chi mi ha fatto fa perché ho cominciato non so non so ma io in video è io quelle che mettono a posto tutto il giorno ci hanno sempre la casa in ordine tutte le cose precise io un po in video io non sarò mai così anche perché mo metto a posto oggi poi se ne riparla tra nanno c'è cose così radicali capito poi le cose si accumulano succede così un attimo cioè quanti video avete fatto avete visto di metà posto il frigo metà posto il mobile della cucina ma perché è di nuovo un casino perché non riesco a tenerli in ordine che problemi c'ho che problemi c'ho non lo so comunque vorrei di che pure caterina è disordinata quindi da qualcuno devo aver preso cioè pure caterina accumulatrice seriale e disordinata che poi lei dice di me ma lei non è meglio avete vista cucina di caterina quindi non è che puntiamo il dito e poi nascondiamo la mano perché è anche lei è così quindi da lei ho ripreso chiaramente e anche mi nonno era così eppure nonno andreina era così quindi tutte nonne erano così perciò non potevo venire maniaca dell'ordine no mi pare ovvio però io mi stanco subito mi stufo subito ma no io da morì ma no io da morì a metà posto poi in cucina non ci sta manco il televisore dici beh potresti usare il telefono sì è vero però poi ogni volta do stoppare per fare video ma soprattutto il telefono è piccolo non ci vedo vabbè sul telefono guardo youtube di solito ma nessuno pubblica video non so vabbè comunque mi ha appena chiamato luca e per non svelare il mio progetto segreto che secondo me tra l'altro fallirà miseramente perché non credo che riuscirò a metta a posto tutta casa in un giorno e mezzo ci vorrebbe un anno e mezzo ma comunque per non svelare il mio progetto segreto gli ho risposto dal divano così almeno perché tanto è credibile cioè è credibile che ogni volta che io gli rispondo sto sul divano non fa niente è molto più credibile che se gli dicessi guarda amore che ho pulito e mensole ho pulito la cucina cioè quello non ci crede magari però che io sto sul divano così a non fa niente è super credibile quindi ci sarà l'effetto sorpresa ce la farò non è vero non ce la farò perché ora mi sono seduta sul divano non mi va di alzarmi no non è vero mi sto alzando vedete mi sto alzando ecco mi sono alzata ho anche stessa la lavatrice che ho fatto o o che non si dica allora questo sopra l'ho sistemato ok ci sono tutte cose dei box chiaramente a parte sti cosi che si mangia luca questi che non c'hanno il tappo ci ho messo dentro le farine così appoggiate così non si sparpaglia farina in giro vabbè queste sono le noccioline cose dei box come ho detto in casa mia ci sono solo cose delle box ora la domanda invece è sto coso come fa a ridursi così ogni volta cioè l'avrò messo a posto in 100 video e ora di nuovo di nuovo ma perché vabbè adesso tiro fuori tutto pulisco e rimetto dentro tutto direi un caos ordinato quantomeno cioè adesso ha un senso tutto ciò molto meglio molto meglio brava sono fiera di me ho fatto una pausa pranzo un po lunghe in effetti ma è arrivato il momento di ricominciare il progetto cucina cioè che poi pensandoci bene ma non ho fatto niente fino adesso quindi tutte le due ore che ci ho speso stamattina cosa sono andate cioè in uno due tre quattro sportelli puzzi a il mobiletto non ho metodo forse non ho metodo o forse c'è troppo casino e quindi non è una questione di metodo ma è una questione di caos probabile ok adesso io direi di passare a questo che anche il vetro involverato tra l'altro va bene ok devo anche pulire il vetro e passiamo al mobiletto della pasta viene da piangere perché dopo ci sono i cassetti ok sono molto fiero pulito anche il vetro è tutto in ordine per quanto possibile però insomma almeno ho levato e carte le scatole di riso semi vuote quindi ora c'è un senso sembra più o meno più o meno c'è un senso ora è il momento del disagio io non so come succede sta cosa tutte le volte non parlare quelli sotto vabbè piano 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 ci lavoriamo pure voi avete 700 mazzetti di bacchette però c'è sono nuove mi dispiace buttarle un po su quelle useggetta del coso un po su quelle riutilizzabili ma sono veramente troppe forse le avevamo pure buttate da poco con luca vabbè che casino che io molto fiera ci ho messo anche relativamente poco potevo fare di meglio sì ma ci accontentiamo coltelli cose varie usate bacchette una quantità di bacchette manco fossi in cinese cioè non lo so va bene poi qui sotto ci ho sistemato mestoli carte forno questa carta bucata quella della frigitrice ad aria tutto molto bello tutto molto ordinato poi abbiamo qui le tovaglie manco fosse il ristorante che ci fai con tutte le tovaglie lì dietro i grembiuli qui i canavacci ecco questa anzi chiude problema dove la cassetta del cassetto delle tovaglie ma manco ci mangio a tavola ma vabbè e qui ci sono tutti strumenti ernesi che chiaramente non uso va bene ciao direi che potrei passare a questo disagio malessere disagio come vogliamo chiamarlo il cassetto delle schifezze va bene vabbè questo non dovrebbe essere troppo difficile molto soddisfatta devo dire cioè bello ordinato carino il cornetto mo magno mercoledì al lavoro carino ci può stare questa è la scatola che mi ha mandato barbara dalla norvegia dentro ci ho messo tutti i mini brownie e le merendine carino ordinato carino l'unica cosa è che sono andata da ikea potevo ricomprare questi che sono tutti rovinati qua davanti vedete sono tutti macchiati ma non se leva perché non è che si può lavar dentro dei cartoni questo invece mi rifiuto di sistemarlo perché l'ho sistemato tipo due settimane fa e è sempre un caos quindi questo resta così come sta mi dispiace ciao cioè va bene così comunque sistemato non è niente de che è che ci sono tante cose mi sento molto demoralizzata me sto a morire de caldo perché c'è sta sta finestra che a questa batte il sole praticamente qua e quindi la cucina in forno non vedo miglioramenti c'è sicuramente ci so dei miglioramenti perché all'interno dei mobili adesso è in ordine per carità però non c'è un miglioramento visibile ho sistemato quell'angolo dell'olio aceti sale cose però è come se mancasse qualcosa cioè sì ho sistemati cassetti dentro i mobili in ordine lì non so manco dove mette mani viene da piagna se lo guardo ma lavo sti piatti che magari levando sto casino la situazione migliora non so non vedo pulito le piastrelle ho pulito i mobili però non no cioè non mi sembra migliorata la cosa ho levato un sacco di roba tra l'altro cioè proprio oggetti cose tipo il taglia banane che effettivamente chi cavolo la taglia banana e però non vedo non vedo la fine non vedo miglioramenti male male mo metto a posto il frigo che mi dà più soddisfazione secondo me però prima dove lavavo i piatti ora siamo tutti ben consapevoli del fatto che io non toccherò mai più la cucina per lasciarla così in ordine sì cioè basta quella bottiglia è da buttare ciao bottiglia devi essere buttata comunque io mega soddisfatta della cucina a parte sta parte qua ma va bene non c'è finta di niente comunque quando entri in cucina è ordinata e già se può fate meglio sicuramente però va bene e oggi c'è un progetto ovvero la camera da letto ma non la camera da letto in generale quanto perché tra l'altro ieri sera che sono stata presa da un raptus mentre guardavo il telefilm mi sono messa a guardarlo in camera e ho sistemato tutte le camicie di luca e il cassetto dei calzini gli ho piegati tutti per bene ma sotto al letto è un po come nei mobili cioè cosa c'è sotto al letto un po al cambio di stagione e fa bene ma poi qualcosa c'è sotto al letto perché le cose che stanno tipo in mezzo ma non le vedo da anni quindi adesso io tiro tutto fuori pulisco tutto e seleziono e rimetto dentro cose che veramente mi servono sarà divertentissimo telefilm in sottofondo sto passando straccio perché io sotto al letto non c'ho il come si dice quel coso del legno insomma perché è andato si è rotto nel trasloco tanti anni fa quindi le cose stanno direttamente per terra perciò levato tutto e devo passare lo straccio ragazzi a morire ma c'è una metodologia giusta per far sta cosa perché non lo so se questa è quella giusta ma a me mi sta venendo infarto tra l'altro stanno 40 gradi una cosa terribile ma perché lo sto facendo aiuto per esempio sotto al letto ho trovato un'altra scatola piena di pigiami cose per la casa tra l'altro pure rotta cose per la casa c'è ragazzi all'armadio pieno di cose per la casa che ce faccio un'altra scatola di cose per la casa queste vanno dritte tra l'altro sottovinate queste vanno dritte nei cosi gialli perché a parte questo il resto è abbastanza nuovo ma tanto non mi serve posto che sono scioccata ed è per questo che non vedrete mai video cioè questa è un eccezione perché è una sorpresa per luca ma sul mio canale non vedrete mai video di pulisco sistemo perché veramente cioè non è per me non è per me non c'è un metodo tra l'altro io ho pure sistemato ma c'è ancora più bordello di prima perché mo tutta sta roba che mi è avanzata da dove mette cioè tutte queste cose da buttare da dare via che ce devo fa da metto da porto madonna mia già faccio tra l'altro chiamato caterina mi ha detto ma i vestiti non buttarli del mettere lì che poi li seleziono io e quelli che sono buoni porta al paese vabbè quindi mo sto con le buste in salotto e però sotto al letto è sistemato considerate ci stanno due bustoni che siete portati a caterina poi ci sta una busta di cose da mettere nel coso giallo nei cosi gialli ma ci devo andare a portarli poi ci sono tre buste di carta che però se butta domani quindi vabbè sì più tardi stasano stanotte la metto fuori quindi almeno quelle le levo e numerose altre cose non ce la faccio sono disastro io non so proprio capace a sistemare a metto a posto cioè mi ce vorrebbe una casa di 200 metri quadrati con uno sgabuzzino che tu butti tutto dentro e poi lì va a narnia tipo invece non ce l'ho e quindi c'è solo un gran bordello perché tra l'altro c'è una busta delle borse che ho tolto da sotto al divano perché ho sistemato pure sotto al divano nel contenitore sotto al divano ma ho levato le borse perché ho comprato apposta l'armadio dove mettere anche le borse quindi ce stanno borse da mettere nell'armadio che però ancora va montato quindi in realtà luca mi ha chiesto sarebbe bello se quando torno trovo tutto sistemato in ordine pulito ha pulito e pulito perché anche la camera l'ho pulita però non è sistemato perché fin quando non montiamo nuovi armadi tante cose sono rimaste in giro mi viene da piangere mi viene da piangere non ce la faccio non sono veramente abile cioè proprio non fa per me non fa per me e vabbè vabbè comunque un continuo continuo tra l'altro sto sempre sul divano no perché ma appena chiamato luca e sono stata molto brava su questo infatti non sospetterà che io abbia fatto delle cose perché ogni volta che mi chiama gli rispondo dal divano quindi è super credibile il fatto che non mi sia mai alzata da qua invece no regà ho fatto un sacco di cose mo vi faccio vedere tutto quello che ho fatto posto che ora vi farò vedere che cosa ho fatto in questi due giorni due giorni scarsi e vi sembrerà che io non abbia fatto niente credetemi 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 ho fatto tantissimo tantissimo cioè più vi farò vedere la reaction di luca cioè ve lo faccio di da luca se non ho fatto tantissimo allora sotto a letto la situazione attuale è questa vi sembrerà un caos sì ma no 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 perché sì c'è una busta di coccarde mi è avanzata da quando c'è vor negozio infatti c'ho coccarde per tutta la vita allora in realtà questi due pacchi sono per fare dei video e sarebbero stati in salotto ma ho trovato del posto sotto al letto e quindi ora sono sotto al letto quella busta tutta quella roba è di caterina quindi in realtà quel buco rimarrà e io potrò utilizzarlo per metterci le cose che mi arrivano per fare i video che di solito accumulo in salotto quindi rimanendomi un posto comodo super accessibile perché qui è nell'angolo sotto al letto cioè non sapete che oro che è questa cosa perché se no a me mi arrivano le scatole magari ci devo fare i video è solo che nel mentre che faccio il video le accumulo tutte in sala è un caos invece così io lì visto che tanto caterina penso che verrà la settimana prossima così siete contenti che vedete dei video anzi devo pensare a dei video da fare con caterina e silvano prima cioè nei giorni che stiamo insieme così almeno vi faccio dei video con loro che so che siete contenti comunque tolta quella roba top cioè lì c'è tipo uno sgabuzzino per me sono super felice di questa cosa poi sembrerà niente sembrerà ma vi assicuro che qui le camicie erano accatastate così e ora invece sono tutte in ordine in mega ordine ce ne saranno altre sparse in giro ma va bene lì sotto che io ho le lenzuola l'ho tutto sistemato piegato per bene la cucina ve l'ho fatta vedere ieri quindi tutto nei mobili è in ordine ora chiaramente devo rilavare queste due cose ma niente di che e ripulico a sopra perché ci ho appoggiato le cose mentre pulivo la camera e qui sni cioè nel senso che quelli sono in ordine lì sotto beh ci stanno bicchieri posate piatti quindi quello rimane così quello è di fra e lo devo montare ma mi devo far aiutare perché non so se sto capace da sola questa roba è tutta da buttare quindi bene questi so da montare una volta montati questi sto casino sparirà perché sarà tutto ordinato in un armadio che verrà qui quelle cose sono plastica so da buttare ma se butta dopo domani questa roba se la devi portare via caterina poi vi mostrerei adesso ho messo sto lenzuolo perché ho lavato le coperture del divano addirittura vi mostrerei come ho messo in ordine qui sotto che c'è il contenitore ma lei ma soprattutto lei stanno dormendo e mi dispiace svegliarle quindi niente vabbè qui sotto però ho messo tutto in ordine dimenticavo che ho messo a posto pure qua dentro dove la roba era tutta ammucchiata c'era un casino adesso è tutto bello ordinato che poi la scatola del computer ma perché conservo che tanto ha garanzia scaduta al computer lo uso perché ho la scatola vabbè non lo so pure voi conservate le scatole delle cose per non parlare dell'aria mensole tutte ordinate e pulite che non è poco ve lo assicuro quindi adesso qui è tutto sistemato molto bene la casa è veramente ordinata? no no assolutamente però è un grande passo per la famiglia Bubinis perché una volta ripeto montato l'armadio e montato quello delle scarpe tutto sarà molto più logico ora chiaramente c'è caos sì però viene Caterina e si porta via questi dubustoni quindi comunque mi libera un sacco di spazio anche sotto al letto per mettere le cose dei video l'obiettivo è quello di portare al mercatino dell'usato credo quello di Ellera tante delle cose invernali che ci sono lì dietro che avevo messo da parte volevo metterle su Vinted ma io non ho voglia e tempo di staccio dietro a sta cosa quindi non credo che farò mai Vinted non lo so forse ma non lo so se lo faccio se lo faccio se lo dovessi mai fare vi avverto in un wiki vlog o vi avverto su Instagram quindi seguitemi su Instagram se volete vedere se metto delle cose su Vinted ma non ci giurerei comunque diciamo che la situazione è migliorata e montati gli armadi sicuramente migliorerà ancora di più ho pulito un sacco cosa che wow sono brava sono molto fiera di me perdonatemi per questo vlog delle pulizie ma come avete visto non è colpa mia è stato Luca colpa di Luca cioè è Luca che ha lanciato il sasso quindi io non me volevo far parlare dietro sono brava e tanto lo so che arriverà se lamenterà perché in realtà la casa sembra più un casinato di prima però che devo fare cioè mica è colpa mia mo levo altre due buste farò due video oggi pomeriggio però rega io veramente cioccio più sto sudata marcia mi devo fare una doccia quindi da questo video dove puliamo insieme sono una di quelle che fa pulisci con me no non pulite come me veramente che non c'ha senso non sistemate come me non seguite i miei consigli e soprattutto mi scrivete qua sotto ma danno come sei disordine la casa mia ci vivo io no voi quindi ok io già ho visto che volevate commentare voi che non mi seguite e siete delle maniache della pulizia io no eh io non sono maniaca della pulizia chi mi segue lo sa quindi da questo video puliamo insieme pulisci con Chiara è tutto e noi ci vediamo addirittura al prossimo video ciao